L'allarme è rientrato solo a tardanotte, quando gli oltre 100 volontari soccorritori hanno sospeso le ricerche. La slavina provocata quasi certamente da alcuni fuoripista di snowboardisti e che ieri pomeriggio ha fatto staccare un fronte di 100 metri di neve in località Passo del Lupo, alle pendici del Monte Cimone, poteva avere conseguenze davvero tragiche. L'allarme, lanciato da alcuni turisti, parlava anche di tre o quattro sciatori travolti e fino a tarda serata per loro si è temuto il peggio. Le immagini che state vedendo sono quelle del punto esatto in cui ieri pomeriggio, attorno alle 15, una slavina è stata provocata da un fuoripista di alcuni snowboardisti. Le ricerche sono terminate in tarda nottata di ieri, è stato confermato che nessuna persona è stata travolta sotto dalla slavina. Tre ragazzi con lo snowboard si sono recati in un'area, in una zona fuoripista dove ci sono degli accumuli leggerissimi perché li avevamo fatti partire, quindi disgaggiati il giorno prima. Quindi la precipitazione di ieri l'altro è stata minima, però qualche accumulo di neve portata dal vento c'era, pertanto hanno fatto partire questa slavina, ci sono stati coinvolti tutti tre. I ragazzi sono scomparsi dalla circolazione, si è sentito qualche voce poi dopo nella serata di qualcuno che si vantava o comunque diceva che aveva fatto partire sta valanga, però in un primo momento noi eravamo molto preoccupati. La zona coinvolta ieri dalla slavina non sembra per il momento a rischio valanghe, così come accade invece in queste ore per altri comprensori sciistici italiani. In ogni caso l'attenzione è alta, i controlli sulle piste sono all'ordine del giorno per evitare che l'imprudenza di pochi possa mettere a rischio l'incolumità dei molti turisti che in queste settimane affollano gli impianti sciistici del comprensorio. Grazie. 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 Grazie.